Inzaghi out! Inzaghi out! Uè, ma stoppirla non ci fa più vincere adesso! Perderemo pure con l'Atalanta! Perderemo con il Torino! Perderemo lì contro Ivan Drago-Halland! Perderemo pure contro la Viola! E usciamo anche dalla Champions! E qui il Milan aveva vinto 4-0 con Napoli! E noi abbiamo preso in giro ieri perché hanno vinto 5-1 con una squadra retrocessa! E noi perdiamo come dei Paul Hustler! Con una squadra che ha già vinto lo scudetto! Non ce la faccio più! Basta! Non ce la faccio più con questa Inter! Basta! Altro che vittoria nel derby! Qua ci annunciamo via da tutto! Eh 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 eh! Eh 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 eh! Eh 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 eh! Mamma mia seppella in bocca! Mamma cisa! Tre! Tre babà! Mangate la roba! Puglietto per una poche di Malox! e tra il limone perché sarò il ruolo in stomaco sai come sono forte? Uè, cia cia rur! Cos'è che dovevi andare a fare a Napoli? Stai attento, t'avevo avvisato! Oh vita mia, oh core e chi stu core si stata? Oh prima amore, oh prima l'ordomo sarai per me T'avevo avvisato, hai fatto il furbacchiotto nel derby hai fatto tanto il pagliaccino pagliaccetto sei già Istanbul campione d'Europa però occhio che lì c'è il Robocop Ivan Drago che t'aspetta Allora, com'è che è andato a finire Napoli 3 inter 1 in più anche un gol annullato regolare al Napoli Cartonato, siamo lì a meno due non è che rischi per sbaglio che non entri tu in Champions League alla fine no eh, no, non mi fare sto scherzo hai fatto tanto per sbatterci fuori hai avuto sta soddisfazione poi non mi alzi la Coppa a Istanbul non mi alzi la Coppa a Roma in Supercoppa d'Arabia sì perché voi siete arabi dentro, no? Pifu pa, fin vescorp Mallotta, mallotta questo maglietto troppo divertente troppo divertente quasi quasi io prenderlo come comunicazione esterna inter ma quale comunicazione esterna? te lo do io una comunicazione zona te ne devi andare a far buona che bello vederli schiattare ragazzi adesso fate anche la parte no, non è successo niente è solo l'inizio di un mese molto divertente ci avete sbattuto fuori dalla Champions? avete fatto i pagliaccini pagliaccetti? il karma il karma vi dico solo questo ciao stelle grazie